Gesù bambino è nato, noi angeli d'Arcella mi ha portato e la povera capanna tra le braccia della mamma bello, peor del ricciolino, benedice ogni bambino oggi essenziale ascolta la preghiera del futuro vai rispondendo le tue spingure, portando pace e tanto a noi non si devono conosciare senza i nostri dormi e non sono i malizi e quindi li abbiamo raggiunti in un piccolo pitlet tutto per cui con i nostri bimbi Chiara, Maria Rosara, Anna, Aurora, Alessandra e Gela Chiara, Maria Rosara, Anna, Aurora, Alessandra e Gela Chiara, Giovanni, Maria Rosara, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti